Amici 9000 giri bentornati sul canale. Oggi parliamo di Volkswagen, in particolare parliamo di Scirocco, è una macchina col motore 1.4 TSI da 122 cavalli, fa parte appunto di un motore che è stato montato praticamente su tutta la gamma Volkswagen. Scirocco sono macchine che conoscete bene, non mi dilungo nella descrizione anche perché è una macchina appunto non estremamente recente, però è una macchina di intonazione sportiva. Di queste macchine ne abbiamo lavorate parecchie nel corso degli anni, adesso nell'ultimo periodo ne capitano meno, però comunque ce ne sono ancora in giro tanti e hanno ancora tanti estimatori. Una delle richieste più frequenti che ci vengono fatte ovviamente è il discorso della linea di scarico, quindi adesso vedete il buon Mirko che sta provando a smontare la linea di scarico originale che è questa, che ovviamente è una macchina, mi sembra che la macchina abbia più o meno una decina d'anni, quindi il fatto di smontare i vari pezzi non è una cosa così immediata perché tante volte c'è appunto qualche bullone che è bloccato, ci sono appunto diciamo un po' di lavoretti in più da fare, però pian pianino con pazienza ci si arriva. La linea di scarico, come dicevo, partiamo dal centrale dove appunto è stato spruzzato lo svitol, quindi lasciamo in opera quello che è il tubo turbina, questo è un flessibile che serve per dare appunto un'elasticità a tutta la parte posteriore in maniera tale che non si crepi, quindi di solito noi questa parte qui che è collegata col turbo dove c'è appunto il catalizzatore, se facciamo uno stage 1 non la tocchiamo. Quello che andiamo a toccare di solito è appunto dal centrale fino, giù, giù, giù fino al terminale. Allora come vedete questa macchina, se veniamo in questa zona qua, stand attento a non picchiare la testa, ha due silenziatori, questo lo chiamiamo centrale anche se nella parte più verso il fondo della macchina ed è un bel barilotto abbastanza grosso e poi c'è il suo terminale trapezioidale che è questo, quindi in sostanza diciamo la somma di questi due di questi due volumi che sono ovviamente riempiti di lana di roccia, non dico che annulla completamente la rumorosità però diciamo che la macchina praticamente non fa rumore. La proposta che noi spesso facciamo ai nostri clienti e sempre più spesso noi utilizziamo, siamo partner di Ragazzon che è un'ottima dita veramente con la quale ci troviamo molto bene perché produce prodotti diciamo perfetti da un punto di vista anche proprio di lavorazione. Quello che abbiamo bisogno noi è non andare a modificare alcune parti per poi andarla ad aggiustare perché le dime non coincidono, perché gli allineamenti non sono stati fatti in maniera corretta. Diciamo che con Ragazzon questi problemi qua praticamente non li abbiamo mai avuti nonostante che montiamo centinaia di loro scarichi all'anno, adesso noi l'abbiamo messo a terra come verrà montato, quindi così come lo vedete a terra la parte sopra verrà tolta e verrà montata quest'altra parte, quindi dedicandoci a questa parte è tutto acciaio inox, rispetto a un acciaio più povero che appunto è quello di serie dove si vede che tante parti soprattutto, adesso qua ci vorrebbe una luce, ma in questa parte qui chiaramente già un minimo di fioritura c'è, se la macchina andasse avanti ancora qualche decina di migliaia di chilometri andrebbe a bucarsi e quindi comunque sarebbe da sostituire, oltre alla pesantezza di questi pezzi che era affrontata quelli diciamo in acciaio diverso chiaramente sono molto più pesanti. In questo caso cosa facciamo? Partiamo dalla flangia che è quella lì, dove avete visto prima lo svitol, arriviamo a questa curva, il tubo anteriore praticamente non cambia, quello che cambia è questa parte qui che dove noi andiamo a eliminare esattamente questo silenziatore centrale o posteriore, chiamiamolo come vogliamo, viene eliminato, il silenziatore era qui e qui adesso non c'è più e sul posteriore manteniamo sempre un silenziatore perché questa parte qua è omologata e per essere omologato ovviamente deve avere un determinato silenziatore e deve rientrare in un determinato numero di decibel. La somma delle due modifiche, nel senso il terminale posteriore sportivo comunque sempre con un silenziatore e l'esclusione del centrale darà come risultato una romborosità buona non eccessiva perché se noi avessimo fatto un tubo diretto la macchina avrebbe veramente avuto una romborosità eccessiva oltre il fatto che non sarebbe stata omologata quindi questo mix come noi abbiamo detto veramente tante volte di terminale omologato e centrale diretto da un punto di vista di prestazione la macchina non perde sostanzialmente in coppia perché bisogna stare attenti quando uno va a toccare lo scarico a non farlo troppo diretto perché se si fa troppo diretto si decomprime la pressione nello scarico ovviamente la macchina sposta la coppia dal basso verso l'alto e soprattutto tanti clienti ci chiedono di avere la macchina sì più rumorosa ma non fastidiosa cioè dove non ci sia una rombosità che a medio andare a medio termine da fastidio poi bisogna chiaramente fare delle correzioni l'ultima cosa che volevo farvi vedere appunto il discorso dell'omologazione potessi trovarla eccola qui quindi ragazzon da in questa bella sacchettina questa card eccola qua dove uno tiene la tiene riposta nel dove tiene i documenti della macchina in questo caso è già specifica della macchina come si vede c'è il numero di serie del pezzo la macchina e la data dell'omologazione quindi questo tipo di Volkswagen Scirocco questo qua il codice esatto di quel pezzo quindi con questo tipo di card a qualunque controllo il problema su uno scarico sportivo che non è in linea con le normative del codice viene assolutamente bypassato quindi direi al di là della qualità delle saldature o delle cromature dei vari pezzi siamo veramente come diciamo molto contenti di lavorare con questa dita perché effettivamente tutte le volte ci dà dei prodotti molto facili da montare o quantomeno dall'altra parte che ci evitino delle grane perché questo per noi avendo tante macchine in lavorazione come dicevo noi ogni anno giriamo più di 400 macchine e dobbiamo avere come dire tutte le macchine dovevano uscire in modo perfetto come lavoro e dobbiamo cercare di avere meno grane possibili perché basta una macchina sulla quale ci sono delle grane che ferma tutta la catena quindi per noi è fondamentale avere dei riferimenti soprattutto come partner o come pezzi di ricambio che siano perfetti se no a quel punto lì uno non se la cava più direi che per il momento su questa macchina è tutto ci vedremo al prossimo video dove parleremo probabilmente di un'altra golf dove abbiamo fatto un lavoro simile un pochino più allargato per il momento è tutto vi ringraziamo del fatto che voi ci seguite costantemente vi invitiamo a rimanere sempre collegati con il nostro sito a iscrivervi al canale consultate il nostro archivio elaborazione dove comprare anche questa macchina www.nomeulagiri.it nell'archivio elaborazione dove ci sono più di 3500 schede vettura contattatemi in sede quando volete io sono sempre lì ad aspettarvi sono pronto disponibile anche a qualunque tipo di consiglio non è che sono solo lì a vendere ma tanti clienti mi chiamano mi chiedono un consiglio e questo ho visto che è veramente molto molto apprezzato primamente tutto alla prossima grazie